Non mi spi... BASTARDO! Sabato alle 7 sono in live sul mio canale Twitch. Trovate il link all'interno della descrizione e nel commento pinnato in alto insieme a quello del mio shop ufficiale, nel quale sono disponibili un sacco di maglie e felpe in edizione limitata soltanto fino a domani. Quindi, quando foste interessati ad acquistare un articolo, non fatevelo scappare. E ora godetevi la mia immensa bravura. Ti è stronzi, volevate la mia cosa, eh? Ah, raga, sulla Tyrlock ovvio la riporterò. Mi sa che però prima vorrei provare a fare... Volevo provare a fare un'altra roba al posto della Tyrlock. Un'altra serie poca... BASTARDO! O NO! Stronzo figlio di puttana! Mia! Ah, per fortuna che sono rapido a riprenderle... Non sono bravo a tenerle, eh, ma sono bravo a riprenderle. Bravi che l'abbiamo ripresa, bravi! Tieni la fine alla fine, bravi! Yes! Il discorso è che con questo gioco io non sono tal... Davvero... Ancora block party. Non sono così pessimo. Me la semi quasi cavicchio. Il problema è che non riesco a vincere. È tutto qui il problema. Non mi agganciare! Brutto lurido figlio di una lurida latrina. Chiedo bene, eh. Saluto nella mamma e che ci seguono sempre. Signora, sappia che sono un perfetto influencer. E io insegno soltanto le buone maniere e l'educazione al suo figlio. Quello stronzo di suo figlio. Che basta soltanto la serata scrivere... Haha, Tyr loser in chat. Caga cazzi. No, scherzo, raga. Dai, vi sopporto in realtà. No, di nuovo questa qua con le barriere invece che con i pannelli a terra. Allora, mi sa che l'hanno cambiata questa, eh. Prende la più complicata. Porca puttana, di nuovo. Di nuovo. Oh, sono salvo. Stronzi! Questa volta ce l'ho fatta. Siamo in dodici. Ci sarà già il gioco finale? Può essere. O fanno un qualcosa che ne elimina quattro. E ci mettono in tre squadre da tre. E da quattro. Oh, oh. Ci mandano tutti in finale. Ciao muso! Amore mio! Aspetti che poi vado a leggere. Ah, soltanto ho scritto... Ah! E grazie per il sedicesimo mese, tesoro. Un bacione. Ma non mi spinga, testa di cazzo. Raga. Eeeh! È un coraggioso l'amico qui, eh. No! Luri di figli di puttana bastardi. Infami stronzetti. Andiamo a riprendere. Cazzo! Lo sai che il signor Musa ci ha spaccato un palco su sto gioco? È perché non ha la pazienza. La pazienza tipica degli zen master come me. Io, ragazzi, ho studiato sulle ande. Ok? Quindi ho imparato a riprimere la rabbia. E ad aspettare... Cazzo! Quanto ci metti a partire? Ho studiato l'arte della meditazione e della calma. E ora so gestire perfettamente le mie emozioni. Ma allora! Oh, cazzo. Ma vaffaculo, dai! Ogni volta arrivo per mezzo centimetro in meno. Ok. Dai, sta a destra. Ma perché non hai saltato? Faccia di culo. Faccia di culo! Alla grande! L'ultima porta a destra l'ho vista. Queste no. Io ancora non riesco a intravedere questi triangolini piccoli. Ho visto che non era. Al centro? Destra, sì. Ma che palle! La porta! Ma toglietevi dal cazzo! Ripeto? Calma! Zen! Pace dei sensi! Stupidi idioti! Dimmi voi se mi devo saltare. Oh, merda! Oh, merda! Ce la faccio, sì, per fortuna. Al pelo, ma ce la faccio. Muso, ma per curiosità, lei quanti ne ha vinte? Ma in generale, fatemi sapere... Cioè, c'è qualcuno che ne ha vinte tipo... 20 di partite? Ma com'è 95? Ma raga, ma io voglio anche fare altro nella vita. Che palle! Ok. Non mi spi... Bastardo! Bravo. È stato bravo. È stato molto bravo. Non ho nulla da dire. Tanto di cappello. Più di così non si può. No, no. Gestite nell'altra stanza lì che... Sempre che sia qua, magari è andata in soggiorno. Che ne so. Cioè, alla fine è giusto che faccia come se fosse a casa sua. Magari mi ha anche detto qualcosa in questo momento, ma non la sento perché c'ho le cuffie. Quindi rip. Se vuoi poi insultarmi... Madonna! Attenzione! Scatta! È più veloce di tutto e tutti! Pelatiar! Schiva tutte le palle! Cosa che è abbastanza incredibile per lui, considerato il tipo di persona che è. Parte sulla fascia! Pelatiar fino in fondo! Pelatiar vince! Del numero uno. Terza, vero? Merda, ora inizio a vederle, ste cose. Dritto. Ok, era giusto. Semplicemente non l'ho rotta. La quarta. La seconda. Ancora la seconda. E al centro. Merda! Merda! Ora inizio a vedere i pixel. Ma che figata! Allora, signora Express Tangent, le sembra il caso di fare queste domande? Le sembra il caso di venire qui a chiedere se preferisco una pornostara o l'altra? Ma le sembra il caso? C'è un pubblico di minori. Non si fa... Lana Rhodes, comunque. Ma non si fa! Maledizione! Dai, ne deve soltanto cadere uno. Non devo cadere io, però. Perché questa è la volta buona. Questa è la partita giusta. Non abbiamo sbagliato un colpo, per ora. Bene. Bene. Bene, 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 bene. No! Questo l'ho vinto solo una volta, maledizione. Allora, intanto spingo come se non ci fossero domande. Sto praticamente facendo tutto da solo. Ora, non fatevi frenare dai... Dalle palline Benoit. Porca troia! Bravi. C'è già il blu cagacazzi. Lo vedo in azione. Lo vedo bello pimpante. Io vengo a rompere la vostra di palla. Ok, l'ho stato l'ottanta. L'ho stato andato, l'ho stato andato, l'ho stato andato. Ah no, la gialla che è andata. Cazzos. Da qua non si muove. Da qua non si muove. Come facciamo a scendere mo? No! Nessuno che difende qua. Raga, qualcuno che difenda! Qualcuno che difenda oltre me! Raghi! Sì! Sì è andata! Sì è andata! Questa non riesco a farla. Perché c'è sempre qualcuno di più schillato di me. Sono sempre i martelli che mi fottono, raga. Fanculo la palla. Appunto. Appunto, appunto. Guardate il Tucano come sta volando. Il Tucano è stato spinto via però. Sono passato! Oh! Yes! Oh! E andiamo! Ve l'ho detto che erano i cattelli. Ve l'ho detto che era la partita giusta. Ce l'abbiamo fatta su questa cazzo di mappa! Primo al primo round! Primo al secondo! Bene il terzo! Bene il quarto! E vittoria all'ultimo! È stato il round perfetto. Oh raga, sono i cappelli. Li tengo su. Ma che bella sta partenza. Tutto solo al centro. Questa prima l'ho stravinta. E ora no. Invece ne esco ancora davanti a tutti. Attenzione. Pelatier corre. Non lo ferma nessuno. Pelatier è davanti a tutti e tutti. Sta davanti! E si porta a casa del primo posto. Qua muoio. Muoio. Muoio per via dello slime. Questa non ho mai imparato a farla. Ce l'ho fatto bene la prima volta. E poi sono sempre morto. Eh che cattura di cazzo. C'ho l'acqua al culo! Ah! Togliti dai coglioni. Una cosa per volta. Senza fretta. Come diceva sempre mia nonna. Chi va piano va sano e va lontano. Chi va forte va alla morte. Non mi colpire! Oh! Questo gioco finale non l'ho mai fatto. Ma siamo in... Sì, siamo in cinque. L'importante è cercare di non finire mai sui due cavi allineati. Quindi è meglio andargli incontro in certe situazioni. Cadono pezzi! Cosa? Ok, mo' sono incastrato qui. Non mi posso più muovere. Minchia, se cazzo... Sono caduto in due. Siamo in tre. Lui cade sicuro. Trimoniamo io e la lattina. Blu, 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 blu. Ok, ma se qua cade il blu poi come funziona. Pause champ. Pause champ. Mi sa che non ne cadono più, mo'. Finché uno di due non sbaglia. E andiamo due di fila! Oppì, raga. Sono i cappelli. Sono i cappelli. È palese che sia il loro potere a darmi forza. Va che bellezza. Scendi. Scendi. Scendi, figlio di puttana. Grazie. Ok, ora punto a destra. Destra, 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 destra. No! Troppo presto, troppo presto. Al pelo. Al pelo. Benissimo, benissimo. La terza qua. Qua tutta a sinistra, mi sa. Va bene, anche tutta a destra. E qua al centro. Va bene, secondo. Dai, 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 dai. Che abbiamo imparato a farla questa. Bene, bene. Il segreto con le porte? Il triangolino in basso al centro è di 2-3 pixel più basso rispetto a quello delle porte che non si aprono. Ok, questo ce la facciamo. Se non c'è nessuno che mi spinge, easy peasy. Oh, merda. Oh, merda, ok. Oh, ce ne sono già caduti 5. Che pepega che siete, raga. Che culo che sono rimasto su. Che culo. Più culo che anima qua. Dai, deve cadere santo uno. Soltanto uno. Oh, qua, raga, perdo sempre. Non c'è una volta che io abbia vinto questo minicay. In realtà un paio di volte l'ho vinto. Sì, ma andrà malissimo. Partiamo già male con i blu che ce l'hanno entrambi nella nostra metà campo. Cacciatela fuori, sta palla. Cacciatela fuori. Bravo, Portier. Bravo, chiunque l'abbia presa perché non ero io. Vabbè, voi pensate dietro. Io vado in attacco. Ma che cazzo. Frederic Sorensen. Non va. È gol. No, palo. Palo dei blu clamoroso. Oh, no, 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 no. Bravi, raga. Tutta la difesa, tutta la difesa. Madonna. Che difesa abbiamo? Stai, in attacco non ci siamo neanche. Ma è difesa l'assurdo. Attenzione, è partito il contropiede. Palla sulla difesa dei blu. Che finisce tra i miei piedi. Sofie Mbuffel. Cross in mezzo. C'è il Portier. Simone Paduin. Giordi Clasi. Attenzione, il pallonetto. È il gol dei gialli. Ma che cazzo, ha schiacciato la palla. La mette fuori Cannavaro. Poi ancora Podolski. Cannavaro. Cannavaro. Via il contropiede dei contotti. Dentro il pallone per Gilardino. Gilardino la può tenere vicino alla bandierina. Dentro del Piero. Del Piero. Del Piero. Non va. Omar Milanetto. Il palo. Pasquale Foggia. Cross in mezzo. O Don Corr. La liscia. Vittoria per 1-0. Vicinissima. Ancora questo? Va bene, lo accetto. Si basa anche tanto sulla fortuna, eh, sto gioco. Ho visto. Perché secondo me dove cado nei pezzetti... Eh, vaffanculo. Appena detto. Qua se stiamo al centro, a meno che non cada al centro, siamo a posto. Vabbè, qua siamo a posto. Gli ultimi tre. Dai. Ah, fuck. Buono. Siamo in cinque qua sopra. O in sei. Siamo in sei. In cinque, scusate. Uno appena è volato giù. Qua particherò a passare. Oh! Ce l'ho fatta. Cazzo, sono bravi anche gli altri tre. Qua chiunque se la vinca, se la merita. Ero quasi arrivato alle tre di fila. Non le avrò vinte a tutti gli effetti. Non avrò tre colori in... Ma nel cuore ce li ho. Nel cuore ce li ho. Che è la cosa che dicono i pertenti sfigati, ma dettagli. Uno, due, tre. Qua. Qua. E qua a destra. Qua non vado più con la tattica speedrun. Vedo che ha portato male. Nel senso che più di una volta cercando di fare le figate ho perso. Quindi muoviamoci bene. Facendo il percorso disegnato dei creatori del gioco. Sulla cosa sbrisciolosa passiamo alla grande. Potremmo essere tra i primi tre, quattro a qualificarci, sapete? Anzi, letteralmente il secondo. Molto bene. Mi dovete suggerire i nomi di calciatori ignoranti. Aronica. Eh, vabbè, è andato male. Takayuki Morimoto. Bravo il portier. Pallalunga che finisce in porta. Dopo con un autogol clamoroso. Keisuke Honda. Non so se lo tocca io. Attenzione. Palla in mezzo. Pippo Falco. Carambola. La rete di Babacar. Cantaluppi. Questo è per tutti gli amici interisti. Gresco. Che appunto ha missato la palla, eroe. Oh! Minchia, che gol. Attenzione. Felipe Melo. Diego. Diego Ribas da Cugna. Col 6-1 la doppietta. Attenzione. Big Mac Maccarone. La tripletta. Felice Evacuo. Io ho l'autografo di Albin Ektal. Ho quello di Ektal. Ho quello di Nedved. Ho quello di uno che ha giocato nelle giovanili della Juve per qualche anno e si chiamava Bamba. Poi non so che fine abbia fatto Bamba. Forse ho quello di Jovinco anche. Raga, sapete anche di chi ce l'ho l'autografo? Di Tearless Raptor. Oh, cazzo. Siamo santo io e lui. Siamo entrambi qua. L'ho appena tagliato fuori, mi sa. E andiamo! Un'altra vittoria stasera! A posto, raga. Io ho dato per oggi.